AIM e AGSM torna in auge il matrimonio delle multi-utility di Vicenza e Verona. Le due società di servizi con un comunicato ufficiale rendono noto che l'ipotizzata fusione rappresenterebbe un passo avanti rispetto alla situazione in essere. Insomma, non potevano essere più esplicite. Questo matrimonio sa da fare perché consentirebbe di assumere obiettivi ambiziosi di crescita e leadership in primis a livello veneto e poi in futuro, si legge nel comunicato, posizionandosi con maggior forza in successive operazioni e alleanze anche su base extra-regionale in territori contigui, raggiungendo la soglia dimensionale e la forza competitiva necessarie per affrontare le nuove sfide nei settori di riferimento. Parole ufficiali che si possono tradurre così. Intanto AIM e AGSM si fondono e raggiungono una leadership a nord-est, per poi, da una posizione di maggior forza, fare un ulteriore salto nel mercato nazionale prevedendo alleanze con altre multi-utility di regioni vicine. Ma questo è il futuro. Intanto AIM Vicenza e AGSM Verona oggi valutano la possibilità e le modalità per avviare una partnership sulle diverse linee di business. In attesa dei risultati di questa analisi, noi di Rete Veneta prossimamente incontreremo l'amministratore unico di AIM, Gianfranco Vivian, per farci spiegare, per far capire a tutti i cittadini verso che Orizzonti sta navigando l'azienda municipalizzata di Vicenza.